Sulla spiagetta devi appustarla, il comune scarica le colpe sulla regione, ma l'opposizione avverte e si può aprire. Dopo il crollo dell'Astra, gli additi lavori si interrogano sul futuro del teatro della Pedemontana. E' rinviato i funerali di Beatrice, la 14enne morta per insufficienza respiratoria, lo ha annunciato la mamma. Serpeggia, la paura per le varianti del Covid, l'Ulsset Pedemontana organizza una campagna di tamponi a tappeto. Sulle varianti i bastanese vogliono vederci chiaro, temono il ritorno di situazioni complicate. Ciò però ad oltranza, i lavoratori davanti all'azienda, ABB entra nell'agenda della politica. Comunità di Mussolente in lutto, si è spento l'imprenditore Lino Biasion. Notata di ricerche per un escursionista, le squadre puntano a Ruana, viene ritrovato a Tonezza. A Villanova di Campo San Piero si punta alle piste ciclabili per tutelare la mobilità debole. Buonasera a tutti voi telespettatori, edizione serale di Bassano Tg. Apriamo subito il nostro telegiornale con la bagara in consiglio comunale per la spiaggetta di Via Pusterla. Il comune scarica le responsabilità sulla regione, le minoranze ora all'attacco. La sindaca Elena Pavanna non si è mai degnata di rispondere alla domanda che, tramite Rete Veneta, tanti bassanesi le avevano posto sulla possibilità di aprire la spiaggetta di Via Pusterla. E così le minoranze hanno portato il quesito in consiglio comunale. Sentite la risposta dell'amministrazione. Belfiore 90 attualmente è concessionaria per 20 anni dell'area canale e d'annessi a seguito di concessione rilasciata dal genio civile della provincia di Vicenza, della regione Veneto, nel 2012. Tale concessione scade nel 2032. È proprietaria, a seguito e sproprio indetto dalla provincia nel 2017, di una fascia media di 5 metri per tutta la lunghezza del canale sul lato fiume Brenta. Il tutto, eventualmente, sino a revoca definitiva. L'assessore scarica quindi eventuali responsabilità e facoltà di scelta sulla regione, ma su questo argomento l'opposizione ha le idee molto chiare. È chiaro che non c'è nessuna autorizzazione valida perché l'autorizzazione è decaduta, per decorrenza dei termini e la regione, in maniera molto chiara, ha detto che è decaduta, punto, non si discute, che al momento quindi non c'è nessuna autorizzazione, dire che siccome il proprietario, siccome il soggetto privato che aveva questa autorizzazione e che oggi non c'è più, ha un diritto di concessione sull'utilizzo del canale, può tenere bloccato l'accesso a quel canale e dire una cosa sbagliata che non corrisponde al vero. A ricordo di logica, quindi quella recinzione non ci dovrebbe neppure essere. Ecco perché. Perché quella recinzione è una recinzione di cantiere, di un cantiere che non c'è, che non ci deve essere. La regione dice che non ci può essere, anche perché qualsiasi opera che verrebbe realizzata rischierebbe poi di dovrà essere rimossa. Quindi il cantiere non ci deve essere. Quella non è una recinzione che tutela un canale in concessione. E quindi? Quindi l'amministrazione di Elena Pavan continua a ribadire di non poter aprire i cancelli della spiaggetta, girando la patata bollente alla regione. Non ci resta che aspettare la risposta degli uffici veneziani. Vuoi vedere che da lì magari qualcuno risponde? E dopo il crollo dell'Astra ci si interroga sul futuro del teatro cittadino e gli addetti ai lavori avvertono. Bisogna pensare ad un teatro per il territorio. Ed ecco cosa ha detto Loris Parise, ospite della nostra linea diretta. Sarà un teatro per. E il teatro per è per il territorio, come ha detto lei prima. E il territorio non è solo quello della Piedemontana che adesso Bassano rappresenta, ma è un teatro che rappresenta anche l'ex esagono, Cittadella, Castelfranco e tutte quelle cittadine che ci sono e che sono scoperte da circuiti importanti. Io credo che il teatro quindi non vada trascurato nemmeno l'Astra come idea, ma che però deve avere assolutamente certi requisiti e devono essere requisiti che sono requisiti importanti sia per la sicurezza, che è il primo requisito di cui un teatro ha bisogno, e sia anche per avere un risultato poi importante da un punto di vista estetico e anche qualitativo del prodotto stesso. Ora la notizia dello slittamento dei funerali di Beatrice Berti, la 14enne paladina dei diritti dei disabili, morta sabato scorso per una crisi respiratoria. La cerimonia era fissata per domani pomeriggio. Oggi c'è stato l'annuncio della famiglia con un post sui social che scrive, con enorme dolore, dice mamma Valentina Pasini, e noi comunichiamo che il funerale di Beatrice è sospeso a data da destinarsi. Ora cambiamo argomento, parliamo di varianti Covid, perché al momento non si registrano casi nella Pedemontana, compresa la Delta, quella indiana. Intanto nell'Ulss 7 aumenta il numero dei tamponi previsto per andare a caccia del virus. Nessun ricovero per Covid è la campagna vaccinale che procede. Sotto controllo la situazione nel territorio dell'Ulss 7 Pedemontana, anche se la preoccupazione per le varianti che cominciano a presentarsi in Veneto arriva fino a Bassano. Ovviamente siamo preoccupati per quelle che possono essere eventuali varianti che si possono diffondere anche sul nostro territorio, per cui dobbiamo fare molti più tamponi alla gente. La Regione ha invitato le aziende sanitarie a aumentare il numero di tamponi giornalieri. per tenere sotto controllo la diffusione del virus. Lo faremo in collaborazione con le aziende. Stiamo già chiedendo alle aziende con più di 100 dipendenti di dare la loro disponibilità, perché andremo noi in azienda a fare i tamponi. E chiederemo anche ai supermercati, perché è un luogo che è frequentato ovviamente da molta gente. In questo modo possiamo avere anche la possibilità di avere un campione molto più vario e diffuso. Attualmente l'Ulss7 esegue circa 1000 tamponi al giorno, ma li fa soprattutto tra il personale sanitario delle strutture mediche e tra ospiti e sanitari delle case di riposo. Bisogna allargare la platea di cittadini monitorati, andare letteralmente a caccia del virus e delle sue mutazioni. Vogliamo evitare che a settembre, ottobre, magari ci troviamo nelle condizioni dell'anno scorso. Dobbiamo fare in modo che se c'è una variante nel nostro territorio che in questo momento non c'è, andiamo subito a processare e a prendere le giuste precauzioni. E continuiamo a parlare delle varianti del virus. Abbiamo chiesto alle persone innanzitutto se ne sono a conoscenza. Sentite. Le varianti del virus ci spaventano per la velocità di diffusione e i dubbi sulla mutazione del Covid sono moltissimi. Questi ci dovrebbero far riflettere. Ma i cittadini come si devono preparare all'impatto con le varianti? Lo abbiamo chiesto direttamente alle persone. Non siamo ancora certi che questo Covid se ne sia andato. Anzi, dovremmo avere più paura. Io ad esempio ho più paura adesso perché si è più liberi di fare e ci sono tante persone che non sono ancora vaccinate. Io sono vaccinata, mi sento un po' più protetta comunque. Abbastanza tranquilla, dire la verità. Non è che mi sia messa in testa che mi ammalo, no? No, perché poi abbiamo un destino, no? Mi sento più tranquilla perché sono vaccinata. Trovo che il vaccino non è che serve tanto. Io l'ho fatto, non trovo che il vaccino almeno non è stato testato tanto, cioè non è sicuro. Questo vaccino io l'ho fatto però... Ma non è più pallida idea di cosa... Non di cosa sia, di come può evolvere la cosa o andare avanti la cosa perché non... Bisogna lasciare a chi di dovere gestire la cosa più che altro. Purtroppo sono berato di informazioni e cerco di fare del mio meglio per contribuire, ma non... Secondo lei cosa bisognerebbe fare? Cercare di avere un po' di buon senso, niente di più. Abbibì, i lavoratori in protesta. Settin ieri sera di fronte all'azienda ha chiaro l'appello dei sindacati e dicono Confindustria e Governo intervengano a difesa del lavoro. È una lotta innanzitutto per il posto di lavoro di 100 lavoratrici e lavoratori. È una lotta per preservare un insediamento produttivo importante di questo territorio. ABB è sciopero ad oltranza, i lavoratori incrociano le braccia e protestano contro la decisione della multinazionale di chiudere la sede di Marostica. A rischio almeno 100 posti di lavoro. Inaccettabile, dicono i sindacati, l'atteggiamento di ABB che non si presenta ai tavoli con le istituzioni e non dà valide motivazioni quando rigetta le offerte di imprenditori disposti a rilevare l'attività. L'azienda in questo momento sta avendo un atteggiamento irresponsabile, sta avendo un atteggiamento arrogante nei nostri confronti, ma non solo. Peggio ancora, ce l'ha nei confronti delle istituzioni. L'assessore regionale Donazan, il tavolo di crisi, il Ministero dello Sviluppo Economico che con grande sforzo e grande impegno aveva cercato e ha cercato nell'ultimo incontro fatto di trovare una soluzione di mediazione. La ABB, sprezzando delle istituzioni che gli danno i soldi, sprezzando del nostro paese perché potrebbe essere una destinataria dei fondi del Recovery Fund, dice no ad un'offerta concreta di un imprenditore locale che si prenderebbe tutta la produzione e tutta l'occupazione. Le azioni di protesta dei lavoratori di ABB andranno avanti mentre i sindacati lanciano un appello al mondo imprenditoriale e politico. Primo, Confindustria, Vicenza e Veneto, se ci siete battete un colpo. Secondo, nei confronti del governo, nei confronti del Mise, nei confronti del Ministro Giorgetti. Questa vicenda va presa in mano e va presa in mano con determinazione. Torniamo a parlare della strada dissestata a Campolongo sul Brenta. Vi avevamo presentato la situazione in cui riversa la strada in via Montegrappa che da Campolongo sul Brenta va in direzione Solagna, dove il manto stradale si presenta dissestato e con buche. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Valbrenta. Anche noi riceviamo tante segnalazioni, siamo per primi consci dello stato della strada, in particolare sulla zona che voi avete segnalato. Preme però rilevare che da Bassano fino al confine della strada per Foza, la strada è provinciale, quindi non è di competenza del nostro comune, mentre poi dall'inizio di Vastagna a Foza vi è un'altra provinciale. Quindi diciamo che da Bassano fino a Vastagna la competenza è della provincia di Vicenza. Per noi è anche l'occasione di far capire che quando si amministra un comune non è per il semplice fatto che un'arteria passa per il comune di quell'amministrazione che l'amministrazione ne abbia la responsabilità. Quindi quello che noi possiamo fare e facciamo regolarmente è di sollecitare l'ente competente. Questo vale per ANAS nella statale 47, vale per la provincia e vale laddove vengono fatti dei lavori di Etta. E quindi se vedete marciapiedi, dissestati o strade scriveteci sempre al numero 340-321-8379 per inviarci delle foto, di video oppure scriverci dove sono. La comunità di Mussolente è in lutto per la scomparsa di Lino Biasion un noto imprenditore della zona. Si è spento dopo una breve malattia Lino Biasion 45 anni imprenditore di Mussolente fondatore con il fratello Pietro di un'azienda specializzata nei sistemi di climatizzazione sostenibile. Lino Biasion era molto conosciuto nel comprensorio bassanese dove viene ricordato da tutti come una persona dalle grandi capacità imprenditoriali e intellettuali ma anche per le sue doti umane e la sua grande sensibilità. Biasion lascia la moglie Francesca e tre figli in tenera età. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Mussolente sabato alle 16. Notte di ricerche per salvare un escursionista del quale si erano perse le tracce. I soccorsi sono partiti da Roana. Sono partite da Roana le ricerche di un 69enne di Arsiero il cui mancato rientro aveva fatto scattare le ricerche nella notte fra martedì e mercoledì. Il suo telefono si era collegato con la cella di Trescheconca a Roana ma si trattava di una falsa pista. Il soccorso alpino di Asiago ha quindi coinvolto quello di Arsiero e sono scattate le ricerche dell'uomo la cui auto è stata trovata in contravalle a Tonezza del Cimone. Il 69enne è stato trovato 30 metri più in basso del sentiero del Lustre dove era ruzzolato insieme al suo cagnolino. L'escursionista è stato recuperato e portato in ospedale a Trento. E Marostica riparte con una serata speciale in programma il primo di luglio. Marostica ritorna a sognare con una serata dedicata allo shopping e al divertimento. È in programma giovedì primo luglio, la notte dei sogni. Evento estivo che anima il centro storico con negozi aperti fino alle 22.30 e tante iniziative di animazione della città. Una serata per celebrare l'estate e la ripartenza mettendosi alle spalle un periodo faticoso ed incertezze. Una sorta di notte bianca con attenzione ai protocolli di sicurezza nel rispetto delle norme anti-covid. In ballo anche una caccia al tesoro innovativa. Tutta da scoprire. Novità a San Zenone. Ora a ristrutturare sarà più conveniente che costruire ex novo. Il comune di San Zenone ha deciso di intervenire per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente abbattendo l'incidenza degli oneri concessori quelli della vecchia Buccalossi per intendersi per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Per riutilizzare i mobili esistenti spesso fatiscenti o degradati e spesso non rispettosi della normativa sismica sarà molto più conveniente che intervenire consumando suolo con nuove edificazioni. L'opportunità concessa dall'amministrazione di Fabio Marini in sostanza permette ai cittadini e alle imprese di spostare preziose risorse dalle tasse alla messa in sicurezza sismica. E si apre domani, primo luglio, il bando per il contributo ecobonus del comune di Cassola. A Cassola torna l'eco bonus con contributi ora anche per l'acquisto di sistemi di condizionamento zanzariere e la messa a dimora di alberi oltre alla sostituzione di vecchi impianti termici. Si amplia la gamma degli interventi che godono degli incentivi del comune che ha stanziato in totale 70.000 euro che saranno redistribuiti con bonus da 300 a 3.250 euro. Il bando è rivolto a tutti i residenti nel comune di Cassola con reddito familiare non superiore ai 60.000 euro. C'è tempo fino al 30 luglio per inoltrare la domanda. Cambia la viabilità temporaneamente in via Melagrani a Bassano per la realizzazione della pista ciclabile. Ridiamo il sorriso alla pianura padana. Anche per il 2021 l'amministrazione del comune di Cartigliano ha aderito all'iniziativa finanziata dalla Regione Veneto e resa operativa da Veneto Agricoltura per la consegna gratuita di piante autoctone da distribuire ai cittadini. Entro il 1 settembre i residenti di Cartigliano interessati dovranno prenotare le piante sul sito dedicato. Il comune provvederà a ritirarle e distribuirle gratuitamente. L'unico impegno richiesto è di piantare i nuovi alberi e di averne cura. Parliamo di riqualificazione delle piste ciclabili siamo a Villanova di Campo San Piero per la tutela della mobilità debole. delle opere che sono davvero importanti nei nostri territori sono le piste ciclopedonali. La mobilità debole va assolutamente messa in sicurezza però abbiamo bisogno di un aiuto concreto da parte delle istituzioni più alte e quindi mi rivolgo in particolar modo allo Stato con il Recovery Fund che deve finanziare assolutamente queste opere. Tra l'altro ci stiamo adoperando per fare in modo che più interventi riescano a perseguire più finalità con la creazione di un percorso ciclopedonale che tuteli la mobilità debole. Sport in casa questa sera alle 20 con Alex Iuliano, ospite della serata la Junior di Atletica Arianna Battistella. Focus 21.15 ospiti Leopoldo Bottero, Roberto Caon Fabio Chies, Giuseppe Sacca Luciano, Sandona, Simona Siotto e Luigi Susin Ora vi lascio in chiusura di telegiornale ai vostri sms e poi vediamo insieme le previsioni del tempo di domani. Ringrazio tutti voi per essere stati in nostra compagnia vi auguro una buona serata arrivederci Grazie 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 a tutti. Ben trovati al meteo. Il mese di luglio inizia ancora con il dominio dell'alta pressione africana ma con la tendenza ad una graduale attenuazione del caldo e dell'afa. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 1 ci mostra una situazione buona. Il contesto infatti risulterà decisamente soleggiato con cielo al massimo poco nuvoloso. Tuttavia nelle ore pomeridiane non si escludono dei temporali sparsi sulle zone montane. Localmente saranno possibili fin verso le aree pianeggianti. Temperature come detto un po' in calo, minime tra 16 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 32 gradi. Con la grafica ci spostiamo ora a Bassano del Grappa dove la situazione sarà la stessa. Poche novità, anche qui tanto sole dappertutto. E la giornata risulterà stabile e senza piogge degne di nota. Il cielo si presenterà poco nuvoloso e il caldo un po' meno opprimente. Dal meteo di Rete Veneta per ora è tutto. Arrivederci. Strepitose offerte da Cherubin. Specialità di Parma e Innostrane 11,90 euro al chilo. Trancio cotto nazionale 9,90 euro al chilo. Cherubin a Bassano. Grazie a tutti.